Andrea Archina, sindaco di Avigliana, perché la bassa Valle Susa ha aderito convintamente alla sperimentazione del carpooling? Perché sicuramente è un crocevia importante, interessata dall'incrocio di due statali, l'autostrada, tra l'altro da due anni a questa parte con tre uscite autostradali, la ferrovia, quindi è sicuramente uno snodo importante che mette in collegamento oltre che la Val di Susa, di cui appunto il Comune porta, anche la Val Sangone e la Val Messa. Fiorenza Arisio è l'assessore all'ambiente del Comune di Avigliana. Secondo lei, assessore, i cittadini di Avigliana, più in generale la popolazione della bassa Valle, sarebbe pronta per un salto di mentalità con l'utilizzo del carpooling? Allora, penso che i ragazzi giovani siano molto più motivati in questo senso. Noi abbiamo effettivamente una parte della popolazione che si sposta verso Torino quotidianamente, o per lavoro o per studio, ma mentre le persone adulte hanno tutta una serie di problematiche legate anche alla gestione della famiglia, dover andare a accompagnare i bambini a scuola, riprenderli la sera e tutta una serie di altre incombenze. Per i ragazzi che invece vanno a Torino per studiare è forse più semplice riuscire a mettersi assieme e condividere anche gli spostamenti. Potremmo anche fare una serie di azioni all'interno delle scuole e cercare di convincere la popolazione più giovane e più, diciamo, libera da incombenze di altro tipo. Cosa dicono gli ultimi dati sulla mobilità, sull'ambiente e sulla necessità di intervenire? I dati sono confortanti dal punto di vista ambientale perché Avigliana è stata sempre protagonista anche in modo lungimirante di una serie di politiche che hanno puntato molto sull'ambiente. Certo sulla mobilità c'è anche molto da fare, anche perché da uno studio che abbiamo commissionato insieme al Comune di Almese, quello che è rilevante è che i maggiori spostamenti che avvengono in questa zona sono micro spostamenti, cioè le persone utilizzano soprattutto l'auto per muoversi all'interno della città o comunque nei comuni limitrofi. Questo fa sì che in realtà abbiamo molte auto in circolazione. Iniziative come questa del carpooling, del car sharing sono una soluzione? Sicuramente sì, perché sappiamo tutti la congestione che c'è andando verso i centri metropolitani e quindi diminuire fin dalla provincia il numero di persone che accede a Torino in auto direi che è essenziale proprio per diminuire traffico, inquinamento e anche per la salute psicologica delle persone che impazziscono la mattina per riuscire a entrare in città.